la sua macchina preferita la macchina che l'è rimasta più nel cuore di tutta la storia della dall'ara sarebbe facile dire l'ultima però la sp10 mi ricordo che la prima vittoria con pesce è stato un momento perché non era facile perché si combatteva contro le abarth mille che andavano forte se non passava se non ce l'avessimo fatta ci saremmo tutti fermare perché non è che c'erano fai una macchina la fai percorrere trovi chi ti rapprende te la paga però se poi non vince cosa fai non è che era sarebbe stata finita e lì quando ci siamo arrivati è stato un risultato grosso 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 per noi veramente è stato che lì c'è stata dell'emozione perché facevamo tutti i motori che erano senz'altro meno potenti di quelli di romeo ferrari però cercavamo di fare questa macchina che era interessante che non avevamo nemmeno provato in galleria vento la galleria vento è venuta dopo e tutto sommato quello è stato un momento chiaro che era stata una macchina insomma che ce l'avevi a vedere oggi con tanta ingenuità insomma tipo si vede come allora la sicurezza non entrava nei sistemi di progettazione di fianco alla testa oggi abbiamo delle strutture di assorbimento lì c'erano della vetroresina rigida se si guarda come era allora i regolamenti nessuno nessuno ci pensava non c'era il pilota che andava che andava a correre sapeva sapeva di correre un rischio che era come andare sulla rete senza senza corda di sicurezza quindi quella è senz'altro una una cosa importante e poi anche la formula 3 con la quale abbiamo cominciato a vincere anche quella è stata la vittoria con Pardini nel campionato italiano ti ha capito ti ha fatto capire che che era che era il momento di forse di di tentare di andare attaccare gli inglesi poi la prima vittoria indianapolis la grande quella lì è stata è stata una alla sconfitta ci siamo anche no abituati no perché non ci abituiamo noi ne abbiamo avute molte di sconfitte anche l'inizio con col formula 3000 poi è stato un mezzo disastro ma meno male che l'abbiamo fatto perché erano 21 ci ha permesso di entrare in formula 1 cos'era successo una cosa incredibile contratto con scuola dell'italia facciamo la formula 1 due mesi prima dell'inizio del campionato bisogna fare tutte le gare invece con la formula 1 avevamo previsto di entrare nei campioni delle gare europee prima gare in in brasile e allora abbiamo recuperato un formula 3000 cambiato le gomme fatto qualche modifica abbiamo fatto con un vecchio formula 3000 che adesso a venturini di parma e che lo sta stata la nostra prima formula formula 1 se no non sarebbe venuta tutta l'esperienza che abbiamo maturato con la formula 1 che è stato un momento di crescita incredibile abbiamo perso molto ma ma poi abbiamo abbiamo recuperato anche poi e poi la prima vittoria a indianapolis la prima vittoria con civera indianapolis che abbiamo corso anche dei rischi perché perché civera non avevano anche degli sponsor importanti e c'era uno sposo che lo pagava con delle pantatine ma è vero e non è una battuta di spirito era veramente è quella che è quella che ci ha permesso poi poco per volta di entrare negli stati uniti dando qualità cercando di sopperire col servizio con il supporto quando si perdeva anche perché ho sempre avuto la arriva visto col posteriori la fortuna di trovare dei competitori molto molto robusti insomma che sono quelli che ci hanno fatto crescere che ci hanno permesso di che ci hanno obbligato a combattere obbligati a a capire quindi la prima vittoria prima in una in una gara americana e poi dopo con civera la gara da 500 miglia quello che ci ha pensato ci siamo ci dobbiamo rimanere e poi dopo le grandi vittorie di di le man con con 333 poi con la macchina che avevamo fatto prima per l'oreca che poi con un motoreggiato ha vinto ancora le mani e poi le ultime insomma insomma sì ce ne sono ce ne sono tante però la prima vittoria varano è stata quella che che ci ha fatto pensare vale la pena continuare ne vale la pena perché poi arrivare a vincere e chi è stato l'avversario più duro ho tanto rispetto per tutti perché ce n'è sempre quando l'oreca mi batte a un certo punto il chapeau io a deschanal gli ho mandato gli ho mandato i miei complimenti ci ha battuto alla grande giforce agli inizi era un anno vincevano loro l'anno vincevamo noi e non riuscivamo veramente a lieve appresi gli abbiamo sfiniti noi ce l'abbiamo fatta perché noi combattendo su diversi fronti potevamo anche sostenere gli sforzi perché all'inizio mica guadagnavamo con gli stati uniti ogni anno rifacevamo la macchina ma mettendoci dell'energia incredibile della ricerca aerodinamica tanto cercando veramente era era uno sfinimento e poi anche la formula 3 sembrava tutto facile poi finalmente poi non si riusciva comunque in francia ci arrivi bene e poi la grande vittoria di francia nostra è stata all'esicore con la sua macchina e va benissimo allora va con l'oreca che aveva le reynard oreca quello che adesso ci ha battuto recentemente allora lui comincia non va bene e allora ripescato la sua macchina vecchia con quella vinto cioè all'esicore tutto quello che ci ha fatto capire che la nostra macchina andava bene e cioè fatto capire che valeva la pena fare quello che non avevamo mai fatto finora dare una macchina in prestito a un team inglese e gli abbiamo detto senti non di primo livello era bravo ma non era un vincente in assoluto gli abbiamo detto se vuoi provare la nostra macchina gli abbiamo dato in uso per quattro cinque gare ha dimostrato che la macchina poteva essere competitiva e nel giro di un anno siamo riusciti a prendere il mercato inglese fatto quello poi è andato in discesa c'è una macchina da corsa nella storia della dall'ara che l'ha resa geloso qualcuno che ha fatto una macchina che lei ha pensato questa l'avrei voluto fare io che io avrei voluto fare tantissime tantissime tipo a cominciare di quelle quando chapman ha fatto il motore portante era lì perché non c'è piaciuto prima c'è ma poi c'è invece vita da fare quelle cose che faceva il braccio della sospensione che era anche il braccio della barra di torsione insomma era era un genio ha vinto meno di forghieri o forghieri faceva altre cose era il più completo ma lui era il più geniale eccolo lì chapman chapeau delle architetture sempre eleganti insomma io continuo a dire anche che non c'entra niente ma lo spirito nella mia macchina l'ho detto mi piacerebbe fare la lotus 7 di oggi quello quello è stato un grande davvero quando l'ha fatta hai capito che tutto il resto i telai tralicci in tubi e cose del genere è finito che muovere non ce n'è più per nessuno quando ti ha dimostrato che funziona che ha coperto nella sua primo progetto tutti i dubbi che c'erano anche uno come me dice ma poi fai a mettere insieme un telaio in carbonio che ha dei piccoli una deformazione molto piccola con un motore in alluminio che si deforma molto e poi che si scalda anche molto lui aveva messo degli attacchi superiori che erano in qualche modo flessibili che permettevano di superare questi queste deformazioni poi col tempo qualcuno ha cominciato a imbrollare rigido ma visto che non succedeva niente allora si comprimeva un po' il carbonio si si stendeva un po' l'alluminio si è capito che potevano poi ma in questo momento secondo me nessuno lo faceva perché si pensavano come fai a far sposare questo lui l'ha fatto con una semplicità con l'eleganza allora quando vedi quelle cose dice chapeau è più bravo degli altri è vero che andava a provare le formula 1 senza casco questo chi non lo so c'è anche una foto dove sta senza casco era era certamente era assolutamente e incredibilmente geniale insomma nelle sue macchine perché l'occhiata quello che faceva sempre insomma ce n'era sempre da imparare poi è stato il primo anche se non l'aveva inventata lui ma a utilizzare le minigone minigone l'aerodinamica l'avevano scoperta quelli là della ciaparra che avevano fatto l'ala mobile io ho visto a monza filil che aveva fatto l'ala mobile un'ala che era orizzontale nel rettifilo e poi schiaccia poi la schiacciava prima della curva e allora come faceva tutti chiederemo come facevano guardate che sistema automatico aveva un sistema automatico semplicissimo aveva un cambio automatico col destro schiacciava il pedale dell'acceleratore col sinistro schiacciava il freno quindi quando viaggiava in rettifilo quello schiacciava il pedale col pedale teneva l'ala orizzontale quando doveva frenare staccava quel pedale andava sul freno allora l'ala si andava così la cosa ci voleva anche quelli sono stati bravissimi quelli hanno fatto un automatismo eccezionale quando devi adoperare il freno stacchi il pedale su quell'altro sul comando dell'ala e poi lì vista dopo quando con l'aspiratore verso così quando hanno distrutto la canam perché gli davano un giro a tutti avevano creato la depressione la macchina stava schiacciata non aveva nessuno andavano a spasso già però ha fatto assolutamente la stessa cosa è con le bandelle ecco la depressione l'aria non poteva entrare sotto e c'era e anche lì gira ma sopra gli altri e poi quel concetto lì dell'aspiratore l'ha preso poi kitty con guardo in mare l'ha fatto questo in mare ma secondo me è stato kitty che era un fantasioso chiuso di farlo che il regolamento della formula 1 era è proibito fare sistemi aerodinamici mobili perché c'erano quelle ali in alto che si piegavano che si romperò la deve essere fissa allora nel forum e ha fatto il quesito al faromeo ufficiale formula 1 ma noi possiamo mettere dei ventilatori per aspirare l'aria dei radiatori e ha detto sì ovviamente lui ha messo un grande aspiratore dietro con un grandissimo ventilatore con delle cinghie enormi che aspirava l'aria sotto sotto la vettura e creava la depressione però ha fatto una gara sola perché non dava di sporco tutti gli ati perché aspirava tutta la pole della pista e poi ha stravinto l'unica gara che ha fatto la vinta e l'ha vinta a valgine invece di macchine stradali una macchina di cui è sempre stato innamorato beh forse per ragioni anche così insomma miura senz'altro però 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 ce ne sono tante di belle insomma ci sono anche degli stilisti bravissimi perché la macchina stradale va giudicata anche per estetica e allora De Silva, Rabacciotti, fatto delle cose incredibili questo non vale niente però mi fa piacere se c'è anche lei un po' che miseria questo che me lo guardo subito subito tra l'altro avrei pazienti lovis stasera comincio subito grazie 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 mi permesso di non prendere il mio capitato qui dietro mi permesso di non prendere il mio capitato mi permesso di non prendere il mio capitato mi permesso di non prendere il mio capitato ma per quanto si